ok allora 2-1 contro Battlemanda un simpatico crash di Magical Line mamma mia la volta che non vedevo queste carte tipo si 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 migasa migasa allora non so neanche dove Magical Line con tale energy allora qui dobbiamo prendere il blu ah le tiene come segnali in infect ok ho 2 energy mi piace è lo storm giant si ok terra puzzle not io so come era media questa carta però medio scarso ah non ci pescavi neanche era davvero solo bevi tre vite ok qui lancio fable dentro pierce direi proprio senza problemi non c'è va bene piclock si va bene girano galvanic iteration un lining ax un concealer prende line ax quindi il mio goblin shaman penso abbia le ricorda contate questo unesned lining mi sa che possiamo binnarlo facile al graveyard qui si si stone carved coast lo voglio tenere la stone carved ujin ujin non ci interessa beh non c'era non c'era prima proprio mio muo marvel la giro tutto è molto triste facciamo un pesco 2 mi sembra meglio di tutt'uno con l'etere non utilizziamo l'abilità qui abbiamo potenzialità altre 3 energy lui trova una treasure cruise abbiamo potenzialmente altre 3 energy ma una lining ax e treasure cruise la cruise immagino la tiri adesso 3-2 quella di aderab sono 6 potrei inventarmi un altro giro il turno dopo che in realtà le altre vanno sotto si metti le altre un botto penso che il piano adesso diventi ah non so marvel ok penso che il piano diventi provo a cercare emacul lui fa una peak lock turno non emoziona tantissimo qui sono un attimino short di verde per fare il cavaliere il fotoprodotto per andare a quest'isola e anche riproponiamo una fable questo voleva 3 mana non 2 per craccare aiuto aiuto che cartaccia ha detto questo si che faceva pietà elvenic iteration ok per treasure cruise la voglio guardare 6 nuove treasure cruise da 2 lining ax prima ok 3 6 7 riesce a fare anche coesona fenicia scelta interessante e proviamo a 17 pattern with other emaculment abbiamo 5 cards type al graveyard andare a prender l'anda mi sembra abbastanza gratis potrei valutare di tirare i cavaliere qui con l'idea di blocco le fenici si rog grafiner e harness lining non mi piace troppo si sento di poter dire pago le energy faccio questo cavaliere no andiamo a 6 card type quindi questa emacul ci costa 7 e non abbiamo visto qualcosa di strano c'è qualcosa di semplice da mandare al graveyard tipo creatura no c'è già non c'è terra non c'è terra al graveyard ok aiuto come faccio arriva a 6 enchantment planeswalker sorcery instant intanto fa un poft creatura e artifact poft è molto molto interessante all'interno di phoenix davvero strano che la gente ci sia quasi arrivata tardi qua mi sento di bloccare questa piclock se arriva a remover su cavaliere ok si potrei dire ho metto su un altro cavaliere riesco a fare doppia giocata ho 5-6-7 mana è dire che se non non metto niente trovo l'anda tiro tiro emra cool si forse la giocata giusta è stare fermi ovviamente tra il ghetto questo cavaliere ma poi non faccio niente potrei comunque anche metterlo in cima e dire faccio questo arnest lining su brazenbor si dai lo metto comunque in cima la carta è troppo forte all'interno del matchup poi si flipa fa comunque la fable quindi è davvero una minaccia importante facciamo cavaliere secondo caverna che nomina il brazi e abbiamo set car type adesso si ma qui penso di poter attendere voglio tirare nes nine in questo turno però aspetto un eventuale trigger di proof questa non è una pescata piclock ok va bene allora non tirerò niente c'è anche reflection che coppia cavaliere diciamo emrakul prendo il controllo del tuo prossimo turno ok g2 allora sicuramente vogliamo l'anlice as durs yash oddio yash forse per che si diano il grafer potrebbero essere un po' medi voglio sicuramente tutti i counter in realtà non voglio questi removal il tema il wheeler rietoso sembra figo ma no una light pole non so si possa tagliare forse un ugin per alcun payoff li vorrei in realtà yashok però dovrei tagliare gli altri due ugin che in realtà non mi sembrano così tanto male all'interno del game cioè da da girare di marvel non vorrei scendere di troppi pezzi di girare di marvel sicuramente il cavaliere è il pezzo forte del matchup o almeno sicuramente no però mi sembra buono questa la malleghiamo questa è già più tenibile buttiamo giù emra cool ok abbiamo un marvel molto disattivato per ora ma che strano che sei costretto a giocare davvero quel sasso perché non c'è niente di meglio tutt'uno con l'ether andiamo a prender foresta vai la tappata quindi no picklock né niente giriamo il puzzle not che a sto punto mi viene da dire che sia la figurina più forte del mazzo vai fledge shredder ok cosa qui devo fare un turno emozionante tipo spacco patto not lui gira una finisce al graveyard ok secondo il time explosion rimaniamo open per negate un po' spero che lui voglia fare un turno aggressivo però poi mettevo a temporeggiare molto adesso che ha appoggiato la sua chiusura adesso chiusura ha appoggiato un clock ma la sua chiusura però noi possiamo temporeggiare con lui senza problemi element al night o qualche altro tipo di creatura ci guardo cioè voglio nominare uno tra element alle night però non mi ricordo se element al night human rug direi che possiamo nominare elementale qui e a sto punto tiriamo il time med explosion ma si dai sento di poter fare 4 da nia tutto se mi fa due spell non sono felicissimo forse ci stava anche dire solo faccio vantaggio però se dovesse tirare due spell devono essere due cantrip scarta un'altra spell vediamo tishana o tawara che si bounce la pezzo ok perché no e qui abbiamo 8 energy quindi la minaccia di marvel è abbastanza viva però credo che prima abbiamo quasi consider qui si devo fare un play around opt spell pierce credo di si penso anche che sia abbastanza gratis oddio se fa così forse resisto poco e tiro marvel se non appoggia terra stappata mi sa che che resisto davvero poco a fare questa marvel eh si dai that works marvel proviamo un giro che magari troviamo emarkul ugin the spirit dragon si direi che lo castro molto volentieri propongo un meno due e passo allora lui se un permanente controlli viene messo al cimitero si 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 va bene galvanic iteration 3 6 7 no non è treasure course ha treasure course in cui vuole tenere galvanic iteration va bene hai otto figurine in mano cosa ci stava anche fare solo più due su su young piromancer e non fare meno due non hai trovato la terza spell aiuto aiuto qua allora scatti sicuramente almeno una phoenix facciamo il cavaliere sembra che rimanere open di negate non sia davvero al massimo prendiamo un header hub che c'è da mana in realtà così sono comunque open di negate spero che la fa stappata il cavaliere due danniate volti in testa bam solido volti in testa ciao farida momento gatto momento poco le rigate forza opponent sì va bene piclock credo che possa entrare tutto ciò che non è turno extra turno extra penso sia l'unica cosa che voglio effettivamente canterare sì va bene seconda piclock cosa hai preso con la prima che non ho visto ah altra piclock ok va bene consider dai due fenici non sono così preoccupanti anche perché penso che lui a un certo punto debba iniziare ad attaccare dentro ujin ujin infatti qua prova immediatamente un attacco verso ujin altra terra altra terra facciamogliela in testa qua sentassi in combat ha senso ti mando a 9 tu mi porti a casa ujin ti mando a 4 si 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 è vero che è un po' di cian blocchi dobbiamo trovare ancora 3 energy che ce li da bene solo il puzzle no credo oddio in realtà anche action with header va bene perché lui qua mi porta a casa ujin non raccindri così non porti a casa Ujin, però lo mandi a 3 ed è un po' quel che basta per evitarti il meno 4 ma io questo scambio ci posso stare credo di Cavaliere per Crackling Drake mi sembra ok soprattutto quando ho doppio counter che lo guarda ti mando uno ti mando uno se non mi shoti devi assolutamente risolvermi Ujin se no questa combat deve andare su Ujin Crackling Drake per turno extra abbiamo dei counter sto guadagnando comunque delle energy lui deve ciampare il Cavaliere è già Shrider si forse così almeno c'è un parè il Cavaliere Secondo Arclight Phoenix Altro Cavaliere Combat verde 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 colorless giochiamo di questo rosso facciamo un Cavaliere che non può essere counterato trigger quelle erano tre carte buone c'è da stare attenti con Cavaliere Pathway perché i Pathway entrano per forza dalla loro faccia principale non puoi scegliere da che lato farli entrare bisogna prestarci un attimo di attenzione a questa cosa quando si prende questa scelta Patty Turf no dai lo counter ok che ti faccio fare due trigger ma penso proprio che questa Patty Turf non ha nessun target se questo mistica il disputo non avrà nessun target migliore e soprattutto ho un po' paura che tu mi faccia 22 danni anche perché hai tre finisce al graveyard quindi almeno il bloccante per l'11-4 lo vorrei muoio da turno extra turno extra che deve essere protetto però qui forse mi sono mancate un po' le energy ho dato un giro subito molto veloce forse ho anche sbagliato qualcosa con UG mi sono sbagliato qualcosina così dovevo solo far dei più due e portarlo a scaricare ok consider in questo spot ok voglio assolutamente cercare la Phoenix ma ce l'avevi già a mano sono quattro Fenici tre quindici diciotto danni bloccando il Cavaliere bloccando il Cavaliere sono diciotto danni fatto che lui scatti Lightning Axe mi sa che io in realtà non riuscirò a bloccare questo Cackling Drake un Ashe a due Ashe questo ho avuto anche i Fieri Impulse è un'altra cosa è un'altra cosa si devo counterare la seconda ma siccome ci sarà un counterback che mi ammazza ok ok qua ho probabilmente sbagliato ma da cinque energy non avevo il modo vero forse devo rimanere indietro con questo ah cavolo era proprio più tre energy in due va bene va on the door li buttiamo lì dentro se il time and fa pietà si è che il doppio blu non deve essere facilissimo da tirare si 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 sento ho proprio la sensazione che quella era una partita che potevo giocare meglio mi sa che era tutto su quello scarico che ho fatto su Yampy Romance avrei dovuto semplicemente pingarla e cercare lo scarico di Eugene mi sa che era davvero tanto più pulita come linea non 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 è che gira 2 blanca però ha girato 2 fenici Due fenici così early, non so se posso gestirle bene Facciamo questa fable Cioè devo sperare che non se le giri qua subito Forse se mi dà un turno Posso pensare Ok ok mi dà un turno E trova Spell Pierce o Consider Penso prendere il Consider Si è un po' imballato Anche se Spell Pierce Eh infatti scegli Spell Pierce Spell Pierce comunque gli dice Ok prossimo turno non sei Non rieschi di morire completamente a caso da Marvel Qua togliamo Emma Con le Puzzle Note credo Trovo Wujin Combat Attacchiamo così Appoggiamo il Refiner credo Sono comunque aperto di un Negate Però è dentro il suo Pierce Quindi in realtà non è un bel Negate questo Però stare fermi mi sembrava troppo peggio come giocata Io ho sei Energy Spaccate Treasure Cruise Si E' pescato tre carte Slate of Hand Opt va bene 6 danni li posso prendere Anche perché adesso Marvel è fuori Gira intorno a Spell Pierce Non attacchi Va bene Scarti Fenice Io ti propongo subito una combat con entrambi Non è un bel trade Però Voglio avere più mana possibile Potrei anche dire semplicemente aspetto con questa Marvel a girare Però se trovo Emma Coulson troppo premiato Vero che ce n'è uno Cos'è la tavola? Avrei dovuto tirarlo prima con l'idea che se doppio blocca faccio due Energy in più Dovevo girarla un po' meglio Cosa stai facendo? E' dato mana E stai facendo una Lightning Axe Ok Hai distrutto la mia Fable Potrei anche solo trovare Ashok Che dico Ok Oh butte 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 qua Ok Prendrò questo Outtune with the Heather Davvero brutte qui Erano importanti quei due Energy in più Cambiavano tanto Sì va bene la fata di desideri Trova la quarta Startline in Phoenix Trova Treasure Cruise 4 Fenici nelle prime 31 carte Ok Non prende Cruise Prende Edergast Ma va a Cruisi in mano Sì infatti Cruisi in mano con due Phoenix che mi guardano Proviamo un Negate Spell Pierce Non lo pago Risco a Tirarla A Tirarla Ugin No Sono Shot di 1 mana per Ugin Qui Sono Shot di 1 mana per Ugin E Amacul non basta E Amacul non basta Proviamo un giro Devo trovare Ugin Trovo Ugin Trovo Ugin Ok Eh lo casto Tre danni sulla tua testa Ti volti una Fenice Così così Quasi quasi Gli elo counter Io rischio di perdere da questa hall Però Comunque adesso Perché non può fare un turno in cui appoggia tutte e tre le picklock Perché se no rischia di Morire in modo abbastanza scemo lui Però tra due lander rischia di arrivarmi in testa la hall E hall Siamo felici Io ho Puzzlenote che è molto forte Anche il rug refiner mi sembra ottimo in questo spot Agnes lining Sì Purtroppo deve Vuole il pezzo a terra al lining Non posso tirarla senza target Sì Anche perché se Ugin sopravvive in realtà continua a rimanere short di un Di un energy Se mi anima all e attacca Ugin Sarebbe un po' il turno migliore da parte per noi Invece legge a shredder Ma se va sotto il meno due di Ugin Mi va abbastanza bene Sì Non so se voglio guadagnare subito tre energy Penso di no in realtà Meno due di Ugin Vai Non è che c'è rimasto troppo da dover risolvere Perché quattro fenici sono qua Piclock Una, due, tre Ci mancano le due piclock Poi ha due legge a shredder Cioè oltre la hall Eh sì Hai spaccato il mio Ugin Sono due energy Tre con Qua paghiamo il ward 18 No vorrei Vuoi pagare nel zero Ah potevo anche spaccarlo e girarlo subito Mi attaccavo se trovavo emacool Avevo vinto Vabbè 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 Potevo girarlo subito se trovavo emacool L'avevo vinto on the spot Anche il rug refiner Era buono Il final of able Posso refiner Pesco una carta in più Mi rido due energy Qui Potrei anche solo dire Faccio Ugin Botto in testa Ho preferito un uncommon È una febbre dello spacca specchi Non so se ho preso una gran scelta Non credo Non penso proprio Vediamo cosa Cosa può voler fare Perché Ulmi attacca Ugin Non è un grandissimo turno In tutto ciò Ho i tre minuti Appoggio doppio pezzo Non è un grande turno C'è ma in realtà Dal momento in cui Non ha le Phoenix Questa partita È molto A mio favore Appoggio doppia Piclock Per cercare un attacco Così Vedere Ghast Su Grifiner Lo metto on top Non era meglio fare Piclock Piclock Attacco Ugin O Grifiner Attacco Ugin Se trovo la vita Rastappata Io sono a 12 In tutto ciò Quindi Non sono così alto Questa è la hall Mi sembra che lui Avesse un turno Un po' più pulito In realtà ha detto Vuole farmi 8 danni Cercare di vincere Infatti Provi 8 danni A me Ok Ma questa è molto forte Di pescata Diciamo Marvel Ah che brutta Puzzle notte Dammi queste tre vite Che ci portano Comunque sotto Le realtà Queste tre vite Cosa mi converrà fare Con il pezzo O bere tre vite E stare Perché se faccio Pezzo Rischio di Di morire Da doppio Doppio removal Ti attacco Se mi conviene passare Credo Credo mi convenga Andare oltre le 10 vite Oltre le 7 vite Perché se no Muoio da doppio removal E il removal Sul cavaliere È Edergast Però E sarebbe il secondo Buoh Anche Patty Turf Ma non ci sono Effetti Stifle Però Vediamolo qui Buoh Vado a 10 Ok Muoio da un Treasure Coase Proof Tipo Treasure Coase Terra Proof È l'auto Che mi uccide È due carte Il Gary Non c'è Niente Questo è Animal Rule E poi Un bel Line Involto Sulla mia Testa Va bene In realtà Penso Deba sempre Attaccarmi Neugini Infatti Dal momento In cui Non è letale Facciamo un bel Più due Su di lui Giriamo di questo Marvel Proviamo Un cavaliere Che lanciamo E questo è Ma come si sta Lasciando desiderare Oh Ok Poco cambia In questo spot Il Gireland È utile Tipo Adderab Altro Marvel Appoggiamo Comunque Un doppio Dopo A 5 Letale Più Lugin Che ci attacca Dietro Scusate C'è senso Fare un energy In più Con Otherworks Marvel In realtà Credo di sì Se ci sia Abbastanza Senso Tenerla Stappata Se possibile Marvel 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 Vede due Energia Questo è interessante Non ci avevo pensato Ero convinto Ne vedesse una E basta Invece Marvel Su Marvel Vede due Energia Ok Se ci fa un removal Posso girare Marvel Cerchiamo qualcosa Cerchiamo qualcosa Ok Wow Che difficoltà A vincere Questo Ok Terzo game Ma no Abbastanza Intenibile Mi piace La tengo Overground Tomb Sul Time Airfolk BG Airfolk Ok Sì Diciamo che L'avevo tenuta Con l'idea C'è un Izzerciamo Che fa Presco Due Scarto Due Però mi sa Che diventerà La mano Che mi fa fare Izzerciamo Come remover Mana Confluence Non è Amalia Sì Potrebbe essere Amalia In realtà Amalia 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 Ok Ho avuto Un attimo Di ho visto Questo E sarà Sicuramente Merfolk Però no Direi proprio Che Amalia Amalia Estremi Non so Se me lo sento Caldissimo Questo matchup Sarò Sincero Si Andiamo Ne tre Si Va bene Il veteran Va bene In keeper Direi che Mi riprendo Quest'altro Il Z charm Lui fa Un sacco Di vite Va bene Non ho Un modo Pulito Per risolvergli La combo Non ne ho Neanche uno Storto Per risolvergli La combo E Arrivare Ottomana Mi sembra Molto Speranzoso In questo momento Mi sembra davvero Tanto speranzosa Come giocata Ma Stappiamo Non voglio Entrare Dentro La sua Company Vai Ok Non so Se è il momento Di accorciare La race Tiro due danni Qui sopra Forse Si Devo prendermelo Da anni Se due Mi sembra Un buon numero Ok Ah Quanto punito Va bene In realtà Non avevo Comunque 6 energy E ho Tutti i miei Hop in mano Forse 5 carte Inutili Cioè 5 terre Un izacciame Un malega Una 6 Non era un buon Kip Si Qui mi sa Che devo inventarmi Un pesco 2 scherzo 2 strano Per forza Per forza Devo inventarmi Forse Avevo un altro Turno Ancora In cui Potevo Permettermi Di guardarlo E basta Ancora 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 Come arriva Company Sì La tiro adesso così provo a scombare E cerco la scombata geniale E la risposta è una varatta Ma scattiamo doppio Marvel Sono quattro da anni E qui vediamo cosa ci gira di sta company Un bel blank Quattro lande Quattro lande, una gilded goose Neonlunark veteran dai Ma perché ne dai cinque lande e una gilded goose Uh Quasi Prendo almeno quattro danni qui Stai pensando su una corda da uno? Sì E che comunque non arrivo dritto a tirare Eugene Quindi mi sa che dovevo prendermi un altro turno ancora Su questo di The Charm Mi andava bene questo gioco di pesco passo Dovevo prendermi un turno Dovevo aspettare un altro pochino Va bene E apprenderemo immediatamente a mali e mi dice che questo è il mio ultimo turno Sì Sì Guarda C'è anche buze ai giù Return to ranks Vabbè in realtà lui che penso proprio stia andando a cercare Ehm Edda Flux Reservoir Ma invece gli va bene il return to ranks In cima al mazzo Ok Ah perché c'è Dina al graveyard Sì La roba che fa Vratta sembra davvero fatta apposta per evitare questo loop Per regalare una combo al mazzo Va bene Sembra davvero fatta apposta Questa Questa scritta di Amalia mi ha sempre impressionato molto Cioè E' strano che abbiano voluto regalare una combo al formato Ecco Strano E che fare degli 1x1 è brutto però E' tutto brutto Il tavolo il can x sprite credo sia meglio di fiori impulse Ma non posso togliere questa parte di combo Posso togliere i cavalieri forse Così i cavalieri fanno pietà Voglio Chanda X danni a tutti Voglio un role più interessante che faccia Vratta come Ugin credo Non lo so mi sembra proprio tosto qua a capire come sai dare No in realtà la License Ders non la voglio Per quanto sia decente in pochi spot Cioè forte contro specialista Sembra davvero brutta in generale Forte contro retron to ranks Non post sconvata Quasi su tutto è che è forte contro specialista Spegne i 3-2 La Sentinella da quando non ho messo il mazzo Regala un turno davvero forte Cioè regala un turno Regala un beatdown molto forte ad Amalia Combo Beatdown che prima non aveva perché lo buildavano magari full combo E ci giocavano solo X proteggini per i pezzi Invece da quando ha anche questo piano B Il mazzo tende ad essere davvero forte Proprio stava cercando la mia decklist su internet Allora cos'è che gioca i The Hub? I che giocavi ok mano che inizia a giocare attorno a tre neanche così bene però però è che temo di non poter malligare mai le mani di marvel ma se c'è marvel x land devo tenere devo sperare di pescare abbastanza energia forse c'è credo che la maniera per vincere se davvero faccio faccio un suo turno extra ragazzo lembra cool veloce e gli rovino il tavolo o qualcosa di simile niente dopo a 1 potevo non fare terra tappata potevo rimanere stappato per il boseggio ma chi sono io un giocatore che fa gli eventi competitive no c'è una terra tappata a malia non ho nessun modo per fare un play around al suo wild grew vinto guadagno vite o esploro quindi lo accetterò ci sta scombata di terzo e io senza removal ci posso stare capisco l'aver perso questo game ok è andata bene allora lanciamo nel bidone dell'umido queste due basiche combat ho solo due danni questo fiery impulse ed è tutto quello che ho proviamo un marvel ok coda da 2 coda da 1 ah si da 1 io risolvo qui a malia credo oddio selfless savior forse cc2 in realtà ho sbagliato forse se ha flessero e cc2 mi sono spento aiuto e questo era solo veterano non era selfless savior ah mi sono spento forse vabbè amalia va bene si guadagno 2 vite quindi di la sta esplorando tossis e la metà del grave dove trova la combo qua lui mi da una quarta energy c'era l'altra meglio safe keeping dopo cancelliamo tutto io ho 4-5 energy con ed erab io ho un'altra Dobbiamo toblecare nuovamente In realtà a sto giro potrei valutare di dire tiro Tiro Bosei giù Io ho questo return to ranks in cima al mazzo Ok Questo ci fa fare un giro di marvel Magari trovo un ember, quello qualcosa di simile C'è Ugin Ok Ok Oh, ho trovato troppo E che Ugin-2 temo proprio che non sia abbastanza Lì ho queste 5 terre in mano Ah ma poi, aiuto come mi sono spento Anche qui Ho pensato che Bosei giù andasse solo per basica Dai no, era per shufflare Era per shufflare, aiuto Sì 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 Se Se avesse cercato aveva shufflato via return to ranks C'è tutta la combo pulita Amalia Ah beh, l'altro pezzo sì Non c'è lo spara danni Dina Ok Vediamo Così in realtà c'è andrà a fare un effetto brat Che è troppo scarso Probabilmente davvero pessimo Pescatina Devo dire gran pescatina questa Ammetto i miei meriti Trovo Emrakul Che lancerò sul tavolo E sono anche 3 peri a te Buon amico Vai Allora, qui lui ha 2 turni Vediamo se c'è un modo per Fare qualcosina Che tira comunque company Ok Extraction specialist E walker Sì Allora Scombando Potrei dire Ti aggiungo tutte le terre in mano E sperare che Amalia Gli faccia finire il mazzo Potrebbe essere un'idea Quello di dire scombo Non so se c'è una coda per qualcosa che può ammazzarlo Però credo 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 che in realtà questo sia Cioè Dagli Il lifelink Mi faccio ratta Va bene Ok E non sto capendo come faccio a vedere la carta Ok Vado Non posso dirglielo No, va bene, non ci credo che è così lento. Non posso neanche dare la conferma con i tasti, devo solo cliccare. Che poi no, in realtà sì, dal momento in cui vedo che Amalia va troppo in alto, posso valutare un'altra corda per Amalia. O comunque posso tirare Extraction Specialist su Amalia. Quindi anche, se ci sono tanti modi che ho per resettargli, quanto siamo? Siamo a 10 per ora, lui ha 20 carte nel mazzo. Potrei anche solo dire Dora Indistruttibile ad Amalia. Comunque si ha Extraction Specialist in mano, quindi in caso. Che è successo? Amalia quant'è? A 12 in questo momento. A 13. A 14. 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 chissà se allora è a 18 ok va bene faccio così 5 telebini io voglio vedere l'immagine di qua proprio una f6 ok in realtà gli devo prendere anche la decisione di cosa scarti sì 1 dai che scomodo così 2 4 5 6 8 9 vai è il tuo turno extra ok spero che questo turno riesco un po' a tagliarlo in streaming dal video perché se no mi disazzo ok rivoglio tutti i botti forse sì in realtà i botti sono comunque un'idea di cianda anche pinto e faccio forse fratta non mi sembra al massimo delle idee se andiamo così ci sono le energy ma non c'è marvel non ci sono dei removal ok ok butto giù un removal che brutto buttare giù questo buttare giù questo no è la mia fable oh no che rabbia verso il mio marvel amalia e che si aspetto è sempre un disastro non so se voglio cambiare una carta forse no è il pazzo il not penso di doverlo tenere per forza perché se poi per scomare vedete non posso girarlo passo non credo che vi giocate a flash strane l'omino che plotta e mi esilia la spell corda company non può tirarla non mi esilia fable ok deep cavern bat si va benissimo ma il mio pazzo il not no no mi togli il time of explosion ok ecco io credo che mi voglia esiliare la favola va bene c'è un deep cavern bat che mi guarda voglio tirare il time of explosion penso di no no faccio un pazzo il not non sono felicissimo in realtà di questo turno però per fare un keep simile in mano ha sicuramente una company quindi si tiro il time of explosion vero che magari recupero l'altro però cioè devo trovare effettivamente cc1 e già non è agilissima questa cosa qui forse devo tirarla in realtà per togliergli più il pezzo con la e flink più alto brutto sport cioè è un po' brutto perché rischio di biccarmi una company che semplicemente gli gira ho vinto ok eh niente non userò l'abilità non avrà senso ti resta rugga fine ora si avrà senso muoio da company che gira maglia e pezzo ci sta vai amico gira la tua company perfetta ok però se trovo la maglia qui dovrebbe riuscire cioè dovrebbe darmi un altro turno mi pare dovrebbe darmi un altro turno e darmi il time di explosion in mano che non è una soluzione ad amalia però non è una soluzione a quello che è in cima neanche però e questo danno è proprio gratissimo amico mio va bene eh bravo in realtà non ho dei grand out a parte a parte marvel per me a parte marvel anche perché spot removal non ne ho boh forse per come mi ha gettato la prima maglia sul tavolo potevo aspettare però se mi fate amico safekeeping sono super morto dopo forse dovevo tirare subito il time ed explosion per cercare contro gioco non lo so non lo so non lo so comunque lui non aveva l'artefatto che sparava quindi deve passare per forza da Dina ah invece c'è la ladder flux reservoir l'ha rimesso mi sono distratto oh magical line ha iniziato ad andare lentissimo invece ha rimesso ladder flux reservoir quindi se prendo il controllo mi stai dicendo che ho vinto se prendo il controllo del tuo turno scusate un attimo ok terzo game ma no abbastanza intenibile mi piace la tengo overground tomb sul time air folk bg merfolk ok si diciamo che l'avevo tenuta con l'idea c'è un idracciamo che fa pesco 2 scatto 2 però mi sa che diventerà la mano che mi fa fare il idracciamo come remover mano confluence non è amalia si potrebbe essere amalia in realtà così amalia 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 ok ho avuto un attimo e ho visto questo e sarà sicuramente merfolk però no no direi proprio che è amalia amalia estremi non so se me lo sento caldissimo questo match up sarò sincero si prendiamone tre si va bene il veteran va bene in keeper direi che mi riprendo quest'altro z charm lui fa un sacco di vite va bene non ho un modo pulito per risolvergli la combo non ne ho neanche uno storto per risolvergli la combo e arrivare ottomana mi sembra molto speranzoso in questo momento mi sembra davvero tanto speranzosa come giocata ma stappiamo non voglio entrare dentro la sua company vai ok non so se è il momento di accorciare la race tiro due danni qui sopra forse si devo prendermelo da anni se due mi sembrava un buon numero ok ah quanto ho punito va bene e la pena non avevo comunque 6 energy e ho tutti i miei pioppi in mano forse 5 carte inutili cioè 5 terre un izacciame un maligana 6 non era un buon ki si qui mi sa che devo inventarmi un pesco 2 scherzo 2 strano per forza per forza per forza devo inventarmi forse avevo un altro turno ancora in cui potevo permettermi di guardarlo e basta anche qua mi arriva company 100 100 che brutto spot si la tiro adesso così provo a scombare e cerco la scombata geniale in risposta a una varatta ma scattiamo doppio marvel sono quattro da anni e qui vediamo cosa ci gira di sta company un bel blank quattro lande quattro lande una gilded goose e un lunarc veteran dai ma perché ne dai 5 lande e una gilded goose quasi prendo almeno quattro danni qui e pensando su una corda da 1 si e che comunque non arrivo dritto a tirare ugin quindi mi sa che dovevo prendermi un altro turno ancora su questo di the charm mi andava bene questo gioco di pesco passo dovevo prendermi un turno dovevo aspettare un altro pochino va bene va bene va bene vai a prendere immediatamente a mali e mi dice che questo è il mio ultimo turno si si va bene 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 c'è anche buze in giù vabbè in realtà lui che penso proprio stia andando a cercare edafluxreservoir ma invece gli va bene il return to rank in cima al mazzo, ok ah perché c'è Dina al graveyard si la roba che fa Vratta sembra davvero fatta apposta per evitare questo loop per regalare una combo al mazzo va bene sembra davvero fatta apposta questa scritta di Amalia mi ha sempre impressionato molto è strano che abbiano voluto regalare una combo al formato ecco strano e che fare degli 1x1 è brutto è tutto brutto il tavolo il can Xprat credo sia meglio di Fire Impulse ma non posso togliere questa parte di combo posso togliere i cavalieri forse così i cavalieri fanno pietà voglio Chanda X danni a tutti voglio un role più interessante che faccia Vratta come Ugin credo non lo so mi sembra proprio tosto qua capire come sai dare no la Talon License Dirt non la voglio per quanto sia decente in pochi spot no la voglio cioè forte contro specialista mi sembra davvero brutta in generale forte contro Return to Ranks non posto scombata no poi c'è su tutto chi è forte contro specialista spegne i 3-2 la Sentinella da quando non ho messo il mazzo regala un turno davvero forte cioè regala un turno regala un beatdown molto forte ad Amalia Combo beatdown che prima non aveva perché lo buildavano magari full combo e ci giocavano solo X proteggini per i pezzi invece da quando ha anche questo piano B il mazzo tende essere davvero forte dopo stava cercando la mia decklist su internet allora cosa è che giocai davvero questo è quello che da iniziano live e Ok, Mano che inizia a giocare a turno 3 è neanche così bene, però... Però... E' che temo di non potermi alligare mai le mani di Marvel, ormai se c'è Marvel X Land devo tenere, devo sperare di pescare abbastanza energia, forse... Cioè credo che è la maniera per vincere se davvero faccio... faccio un suo turno extra, ragazzi, un ember cool veloce, e gli rovino il tavolo, o qualcosa di simile. Niente troppo a 1. Potevo non fare terra tappata, potevo rimanere stappato per boseggio, ma... Chi sono io? Un giocatore che fa gli eventi competitive? No, facciamo una terra tappata. Amalia. Non ho nessun modo per fare un play around al suo... Wild Groove, vinto, guadagno vite o esploro, quindi lo accetterò. Ci sta, scombatta di terzo, e io senza removal ci posso stare. Capisco l'aver perso questo game. Ok... Ok... E' andata bene. Allora, lanciamo nel bidone dell'umido queste due basiche. Combat. Ho solo due danni questo Fire Impulse. Credo è tutto quello che ho... Proviamo un Marvel... Proviamo un Marvel... Ok... Coda da 2... Coda da 1... Ah si, da 1... Oh, io risolvo qui Amalia, credo... Oddio, Selfless Savior... forse è CC2 in realtà... ho sbagliato... Forse è Selfless Savior e CC2... mi sono spento... Aiuto... E questo era solo veterano... non era Selfless Savior... Ah, mi sono spento forse... Amalia... Amalia... va bene... Se guadagnando vite... quindi di là sta esplorando... Tossiz... Io ho 4, 5 Energy con Ederab... Mmm... 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 Dobbiamo top decara nuovamente... In realtà a sto giro potrei valutare di dire... Tiro... Tiro Bosei giù... Abbiamo questo Return to Ranked in cima al mazzo... Un altro di avere un ritmo... Questo... Un altro di avere un attore... Come... Questo? Ederab... Ok... Questo ci fa fare un giro di Marvel... Allora... Vado a vedere... Ad... Ad... magari troppo un elmo a quello qualcosa di simile se è Ugin oh troppo troppo è che Ugin-2 temo proprio che non sia abbastanza lì ho queste 5 terre in mano ah ma poi aiuto come mi son spento anche qui ho pensato che Bose già andasse solo per basica dai no era per shufflar era per shufflar aiuto si 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 se se avesse cercato aveva shufflato via return to ranks c'è tutta la combo pulita Amalia vabbè l'altro pezzo si non c'è lo spara danni Dina ok vediamo così in realtà c'è andrà a fare un effetto Wratt che è troppo scarso ovviamente davvero pessimo pescatina devo dire gran pescatina questa ammetto i miei meriti trovo Emma Cool che lancerò sul tavolo e sono anche 3 peri a te buon amico vai allora qui lui ha due turni vediamo se c'è un modo per fare qualcosina che tira comunque company ok extraction specialist e walker si allora scombando potrei dire ti aggiungo tutte le terre in mano e sperare che Amalia gli faccia finire il mazzo dovrebbe essere un'idea quello di dire scombo non so se c'è una coda per qualcosa che può ammazzarlo però credo 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 che in realtà questo sia effetto cioè dagli il lifelink mi faccio Wratta va bene ok e non sto capendo come faccio a vedere la carta ok qua ok non posso dire io always yes no vabbè dai non ci credo che è così lento non posso neanche dare la conferma con i tasti devo solo cliccare yes che poi no in realtà si dal momento in cui vedo che Amalia va troppo in alto posso valutare un'altra corda per Amalia o comunque posso tirare Extraction Specialist su Amalia quindi anche cioè ci sono tanti modi che ho per resettargli ecco quanto siamo? siamo a 10 per ora lui aveva 20 carta nel mazzo potrei anche solo dire Dora indistruttibile ad Amalia comunque si ha Extraction Specialist in mano quindi in caso che è successo? ma la maglia quant'è? a 12 in questo momento 13 a 14 a 14 c'è una sola terra su questo perché io a maglia 16 chissà se allora è a 18 ok va bene faccio così 5 telebini così il veterano in mano di qua proprio un f6 è una tido con anche la decisione cosa scarti sì 1 dai che scomodo così 2 3 4 5 6 8 vai è il tuo turno extra ok spero che questo turno riesco un po' a tagliarlo in stream dal video perché se no mi disazzo ok rivolgo tutti i botti forse sì in realtà dai forse in realtà i botti sono comunque un'idea di cianda anche pinto e faccio forse pratta non mi sembra il massimo delle idee se andiamo così ci sono le energy ma non c'è marvel non ci sono dei removal ok butto giù un removal che brutto butto giù questo and where am I no la mia fable oh no che rabbia verso il mio marvel amalia perché se aspetto è sempre un disastro non so se voglio cambiare una carta forse no per il pazzo è il not penso di doverlo tenere per forza perché se poi per scomarve non posso girarlo passo non credo che vi giocate a flash strane l'omino che plotta e mi esilia la spell corda company non può tirarla non mi esilia fable ok deep cover un bat sì va benissimo ma il mio pazzo è il not no no mi toglie il time of the explosion ok ecco io credo che mi voglia esiliare la favola va bene c'è un deep cover un bat che mi guarda voglio tirare il time of the explosion penso di no no faccio un pazzo il not non sono felicissimo in realtà di questo turno però per fare un keep simile in mano ha sicuramente una company quindi si tiro il time of the explosion vero che magari recupero l'altro però cioè devo trovare effettivamente cc1 e già non è agilissima questa cosa qui forse devo tirarla in realtà per togliergli più il pezzo con la e flink più alto butto sport se è un po' butto perché rischio di biccarmi una company che semplicemente gli girò vinto ok eh niente non userò l'abilità non avrà senso non avrà senso si avrà senso dai eh muoio da company che gira maglia e pezzo dove ci sta a tomb with aether terza l'andrea è la mano vai amico gira la tua company perfetta ok però se trova Amalia qui dovrebbe riuscire cioè dovrebbe darmi un altro turno mi pare dovrebbe darmi un altro turno e darmi il time of the explosion in mano che non è una soluzione ad Amalia però non è una soluzione a quello che è in cima neanche però e questo danno è proprio gratis amico mio va bene eh bravo in realtà non ho dei gran out a parte Emrakul per a parte Marvel per me Emrakul ok anche perché spot removal non ne ho boh forse per come mi ha gettato la prima maglia sul tavolo potevo aspettare però se mi fate a mio safekeeping sono super morto dopo forse dovevo tirare subito il time of the explosion per cercare contro gioco non lo so 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 comunque lui non aveva l'artefatto che sparava quindi deve passare per forza da Dina ah invece c'è la ladder flux reservoir l'ha rimesso mi sono distratto oh magical line ha iniziato ad andare lentissimo invece ha rimesso ladder flux reservoir quindi si prendo il controllo mi stai dicendo che ho vinto si prendo il controllo del tuo turno aspetta un attimo ok sentivo il mio colore peli darmi alzo era di fianco a me che stava dormendo quindi era un altro gatto eeeh temo per forza di dover cambiare una carta non mi viene in mente una maniera più intelligente di questa si pago tre vite cambiamo questa buy in pool ah ho visto che fosse un artefatto ci ho creduto per un attimo eh vabbè sono morti si devo devo malligare a marvel devo per forza malligare a marvel non ho tempo per scavare devo per forza malligare tengo solo con marvel in mano tutto il resto non conta perché tanto poi se no in qualche modo li ti ammazzo ok ultimo turno ancora gigante ok ma da leste pulle non è che mi faccia impazzire come idea in questo mazzo mi da troppe poche energy come carta sto scar mage strado due vite per due vite no credo di no non mi va di fare questo izacciamo direi che lo facciamo un po' esplodere in questo turno quindi faccio quindi faccio quindi faccio analize the pollen per blu così posso rimanere comunque open di zcham e un minimo cercare quello che succede con l'idea però di fare in realtà il time of the explosion ma sto uso age ok 5 8 danni a me totali va bene guarda come si rivedano utili queste tre vite del puzzle not allora qua andiamo a prendere il blu che poi in realtà adesso come adesso serve solo a counterare essendoci questo token però meglio di niente ecco lui ha due carte in mano se mi fa quest in druid vorrei counterarla molto volentieri lui potrebbe voler fare quest in druid se qui mi prendo un altro turno ancora in cui cerco con molta calma faccio terra tappata per quanto in realtà era anche parecchio bello fare foresta o se era addirittura meglio però mi sembrava molto forte questo counter su seek the beast qui non credo di potermi prendere 13 danni con due carte e fu così seek the beast per seek the beast per express evitare hash per doppia misshawable per bolting test da 11 qui direi che posso addirittura permettermi di appoggiare un altro pezzo e non tirare il time and explosion quando c'è the rub no il mio emra è cool vai qui penso che il suo miglior turno sia diventato prendo gigante è il momento del time and explosion forse si combat rimaniamo anche open di z charm scatto cc3 scatto cc4 scatto anche cc3 però scatto cc4 appoggio questa bozei giù ma si spacchiamo il puzzle ok anche stomping capo 5 per gigante non un turno affascinante 9 energy cosa gireremo cosa bolle in pentola un emra cool un ugin un volcanic spite un whirler virtuoso un rogue defiler combat va bene buono questo g1 non mi ricordo già più la sei data quindi potrei cambiarla non voglio il virtuoso oddio in realtà il virtuoso bisogna seppali un dedo non lo voglio voglio i 4 fieri un pulse e tolgo analyze the pollen il virtuoso un ugin e un cavaliere ah si sembra ok così ovviamente l'ho fatta diversa rispetto alla partita di prima è passata due ore sono passate due ore la mia la mia memoria a breve termine mi ha fatto dimenticare la sei data che ho fatto ok in standard c'erano molti più pezzi che ti davano energy perché mi ricordo che il virtuoso erano 3 o 4 che si giocavano il refiner erano 4 gli atune with header erano 4 quindi in realtà eri molto più solido di energie gli harnessed lining erano 4 butta meccaniche le meccaniche con cui in magic non potevi non potevi dialogare no questa mi sembrava decente contro amalia non contro mono rosso qua si parte con un attune with header devo andare a prendere blue forse ti run in the charm forse forse per scuola l'anda umano face scacca zanna ok pocket a try perché se non riesco mai più a incastrarla riesco a saltare il turno di the charm prendere meno danni perché non sto facendo stomping down stappata oh oh cosa mi arriva in testa doppio pezzo su scarmage forse in realtà devo comunque tirare il charm su scarmage posso comunque passare da team with header prendiamo ancora il verde risolviamo comunque lui sono almeno quattro danni lui ha ancora quattro carte in mano quindi non mi sento così fresco deve cercare una terra ok ci pensa potrebbe essere un drop a 1 mette bottom quindi non ha la landa o ha solo lande ug 7 9 danni a me così mi sa proprio che non aveva la landa buono buono questa emra cool ne sa eh questa emra cool ne sa c'è poco cosa fare qui devo sperare che la sua ultima carta in mano sia terra pesco terra io mi blocco un kumano in qualche modo lui pesca una landa ancora ma cosa penso che lo spot debba andare più o meno così invece questo danno mi ammazza ok ok qua è andato abbastanza veloce kumano into doppio drop into doppio drop a 1 un drop a 2 ok troppo veloce però adesso sta a me di partire e quando sta a me il marvel lavora troppo bene ok questo è un flash che in realtà dal vivo non era pay6 energy ma era proprio pay energy 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 lo cercherò infatti era pay energy 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 e va bene manca un puzzle notta questa mano devo partire con terra tappata no perché se poi pesco terra se poi pesco drop a 2 in tutela sento di aver perso un turno di gioco prendiamo un rosso stappato potenziale tanto se se vedo una terra qui che non devo fare niente a turno 2 posso fare che trattare un tappato e va bene gitu lava runner aiuto cavaliere il mio side out beh già che non è cumano forse mi sono evitato la partenza troppo esplosiva audacity ok forti 5 danni forti una fable con l'idea di ciampare al volo poi di realtà la monaca è la trampla quindi prenderemo un po' tutti i danni che arrivano da lì prenderemo tutti i danni in generale mi sa ok sono 7 a me vado a 5 vado a 5 eh direi che dobbiamo tirare assolutamente questa sì uso questa abilità tolgo tolgo Qui penso di dover appoggiare il doppio bloccante. Ci stava anche tirarci il botto sopra. Forse poteva starci. Tick the beast per Slipshot e terra, aiuto! Ah vabbè, però riccia riccia il cavaliere. Giusto, giusto, riccia riccia riccia. Il cavaliere raggiunge. Ho già quest'induride, sceglia non Slipshot. Va bene. Ugin. Qui non so se me la sento di fare Marvel. Credo che il turno migliore sia Copio in tubotto. E ci sarà da capire quanti danni si sparano. Magari col pezzo con Rich rimango indietro. Tipo quattro danni potrei sparare. Non farmi ingolosire da questo... Da questo Marvel. Sparo quattro danni. Adesso qui la grande domanda è Devo rimanere open o bere tre vite? Mmh, ok. Rimango open? Credo di sì. Credo sia meglio rimanere open in realtà. Potrei comunque rimettermi a Marvel lì in cima. Sì, mi piace. Ah no, in realtà no, perché vuole che venga esiliato, giusto? Giusto, avevo detto una cazzata. Qua Ria l'avevo trassato 100 gente. Però il cavaliere dice che deve essere esiliato per mettere in cima. Ok. Non è quando muove e metti in cima. Allora, ho due carte in mano. Sono io dall'alto dei miei cinque puntoni vita. Botto in testa, botto in testa. E via. Ok. Combat. È perché è un solo botto, ma è da tirare su cavaliere. Io faccio questa giocata, allora. Ancora Blossoming Defense, ok. Passano due danni così, fastidio. Qui però posso mettermi Marvel in cima, direi. Yes. 3, 6, 7. Potremmo che solo mettermi terra in cima. Però era meno spicy di giro di Marvel. Mi diverte troppo di più fare il giro di Marvel. No, non ho visto niente. Potrei dire tiro fieri impulse, semplicemente. Tiro fieri impulse. Sono a 6 vite. Ce li ho, avevo due spell, sì. Sì, 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 dai. Facciamo così. Sono a 6 vite. Qua riguadagno 4 energy. Se vedo l'anda, sto piantando ugin sul tavolo. Forse qui avevo una giocata più pulita. Però vuoi mettere col giro di Marvel. Questa è buona. Perché mi fa fare un altro giro. Da niente, ha un altro giro. Aiuto, che bello. Ed è anche la landa in più che mi fa fare ugin. Che culo. Ci sta, ci sta a arrabbiarsi, eh. Ci può stare. Anche perché era il mio ultimo tune with header. Che bella quest'illustrazione. Che bella quest'illustrazione. Oppo. Ci sta, ci sta a arrabbiarsi, eh. Lo capisco. Però non così. Girello. Bevo un energy. Bevo 3 vite e 3 energy. Giro Marvel. Vabbè, ugin. Lui mi fa geganta. Su geganta non sono felicissimo. Potrei dover valutare se fa terra giganta di fare ugin. Faccio ugin gli sparo. Che brutto. Cioè, ho usato 2 drop 8 per risolvere un drop a 5. No, in realtà no. Potrei fare semplicemente meno 5. Non lo so in realtà se c'è un modo più intelligente di farlo. Ah, se solo ugin mi desse anche 3 vita. Con quel bel T2. Troppo. Ok. No, Terra, ma sei lo ammazzo con questo. Bellissimo. Bellissimo. Do 2 drop a 8 per fare il doppio bolt in testa. Bellissimo. Bellissimo. Devo dire che, non so, non credo che il mazzo sia forte. Però è estremamente divertente questo. Gliene do atto. È un mazzo estremamente divertente che giocherei molto molto volentieri al torneo sotto casa. Cioè, giocherei davvero solo Marvel al torneo sotto casa. È proprio divertente come mazzo. Bello. Promosso. Promosso. Commosso.